Buongiorno si medica, siamo con il dottor Luigi Mazzoleni, chirurgo ortopedico, che ci parlerà della relazione tra le patologie del ginocchio e le scarpe con il tacco. Dottore, quali sono i problemi che possono darci le scarpe con il tacco? Buongiorno a tutti, sicuramente il tacco, soprattutto se è alto, può portare oltre problemi al piede, anche problemi al ginocchio, principalmente due al fatto che tutto il sistema muscolo tendinio posteriore, quindi i muscoli ischioclurali, tendono ad accorciarsi dando dei problemi al ginocchio, principalmente di tipo femoro rotulio. E tutte le scarpe con il tacco danno questi problemi? Beh sì, anche perché ovviamente non è la scarpa in sé, ma è il tacco, cioè l'altezza, quindi che sia un tacco di un certo tipo di scarpa o un'altra, ovviamente sempre il problema è dato dal retropiede che è molto sollevato da terra. Chiaramente più il tacco è alto, più il problema potrebbe essere importante. Per chi non può fare a meno dei tacchi, ci sono accorgimenti da prendere? Sì, sicuramente la cosa più utile, proprio perché c'è una retrazione dell'apparato muscolo scheleto, muscolo tendinio, la cosa che si può fare è lavorare soprattutto sull'allongamento, quindi uno stretching della catena posteriore dei muscoli ischioclurali potrebbe aiutare sicuramente a evitare di avere patologie riguardanti il ginocchio causate dal tacco troppo alto. Esistono plantari ossolete che possiamo utilizzare con queste scarpe? Plantari specifici per scarpe col tacco alto, onestamente è difficile trovarne un plantare, però può ovviamente dare un grosso beneficio se messo in una calzatura apposita al ginocchio, perché andando a correggere l'appoggio del piede si può influenzare sicuramente il ginocchio. Come lo si può influenzare negativamente con una scarpa col tacco alto, lo si può influenzare positivamente con un plantare adatto. In che modo possiamo alleviare il dolore causato per queste scarpe? Bisogna vedere principalmente che tipo di dolore porta. Se il dolore è quello come detto femorotulo dovuto a una retrazione, chiaramente lo stretching può aiutare, ma eventualmente si possono utilizzare delle terapie antifiamatorie, antalgiche o terapie fisiche che possono portare un effetto benefico al ginocchio ovviamente. Grazie. 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 Grazie.